La situazione delle strutture sportive nel territorio del comune di Ischia. Torino Mattara, a che punto siamo? Dopo gli eventi del terremoto di Casamicciola e con l'avvento delle scuole di ogni ordine e grado, che bene o male da Casamicciola sono transitate qui, abbiamo un po' dovuto fare spazio nel periodo pomeridiano quando le strutture sportive erano adate alle associazioni. Adesso sono a pannaggio dei doppi turni delle scuole elementari, medie e delle superiori per quanto riguarda il polifunzionale. Quindi per fare un po' economia anche di spazi che non c'erano, sperando che anche i direttori didattici di quelle scuole che spesso negano le strutture si sensibilizzino un po' per aprire questi spazi, abbiamo dovuto concentrare un po' tutto all'interno del palazzetto. Questa fase ci ha un po' distratto anche dalla possibilità di organizzare altre aperture, quali potevano essere quelle della piscina, che comunque adesso stiamo avviando e aprirà per i primi di novembre. E quindi siamo stati più organizzati su questo fronte scolastico, strutture sportive di appennaggio scolastico, piuttosto che quelle libere. Per quanto riguarda la situazione delle palestre, degli edifici scolastici o quant'altro, c'è mica in progetto qualche lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria che avete in preventivo? No, nell'immediato no, perché bene o male noi siamo intervenuti di recente su palazzetta e piscina. La scuola media è stata consegnata pochi mesi fa ed è nuova, pronta, già in uso della scuola. Per il resto ci siamo negli anni precedenti dedicati un po' a delle manutenzioni di natura puntuale su tutto il patrimonio sportivo, nonché in quello scolastico. Dovremmo programmare, piuttosto che per il futuro, altri interventi, quelli che saranno necessari per evitare che poi col tempo qualche altra cosa ci arrivi nel futuro. Quindi siamo pronti per pensare di fare qualcosa di nuovo anche o di ristrutturare qualcosa che c'è.